Salve ragazzi Quello che devo fare oggi è una cosa che preferivo non fare E se tu muovi il personaggio farà io non posso farlo Ok niente, ciao a tutti gente Comunque è questa Kirby's Adventure Week con Nicola, Andrea Ma non è Street Fighter È sorella di Nicola Sì lei va e viene Niente battute eh, niente battute Perché c'è una battuta? Non so, però Lulz 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 mi dai foto di tua sorella Nicola Non sto neanche esagerando E se fossi internet Sì veramente Cosa ho fatto? Ah no sei tu che gli hai ispirati Gli ho risucchiati in un buco nero Oh c***o Ma oggi ho problemi perché guardo sempre il tuo personaggio I'm so sexy I'm sexy and I know it No Tenepatia I've got an erection in my pants Sputta il fuoco qua Deve scogliere il ghiaccio Ice and fire Bruzo abruz Bruzo tutti Mio No Sei rimasto sull'ultimo blocco Kirby Mansion Kirby Mansion È il titolo di un episodio Un crossover No di un episodio di Dea Lostra che ti spede la staffa Oh io prendo il cannone È vero? Sì L'ho chiamato Fuck Sono saltato dentro mille volte Non me la bevo Vai Kill them all Kill Kill the pigs Au Kill them all Gotta kill them all Fire in the hole Sai che dicono davvero così per non sparare la bomba? Sì Sì Oh non serve a niente Fire in the hole Ho mangiato tutti i cinghiali io tanto No Dove sono? No 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 Cosa c'hai? Eh mi hai preso Ah no pensavo che avessi una chiave No Fire in the hole Fire in the bowl Fire in my balls No 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 scherzavo Quello è un problema No Sbagliato No 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 tranquillo non potevano più prendere Entra Ok ciao Ok decidi tu Vai Ah tu Inutile bravo Weee 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 Occhio a non spararci in giro Oh Uh su Chi lo prende? Io Nooo Nooo Colpa mia Ahaha È stato lethal No come che dicevi? Lethal Lethal Perché sei Waddledee Nooo Sbagliato Sbagliato Nooo Adesso sei Waddledee Gratat Andiamo subito di lì In giù Di là Lo faccio io? No Ok Pip 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 Questo è automatico Ho ottenuto Ho ottenuto Ho ottenuto Ho ottenuto Ho ottenuto le stelle? No Sì Ho ottenuto Ho ottenuto Chi le ha prese poi io? Sarà difficile dare i punti Ah beh Non li devo dare perché li dicono alla fine Quindi non devo fare i calcoli Ok Ok Yiii Dove Mi ha finito di που C'è una porta lì sotto che non ha ben preso Lo bravi? Tu sei Waddledee adesso Si Ma sempre l'Alancio Eh, si E' una figata Suo le fogge Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Non nuove, dopo gli originali Cicorita Ecco sì Ma non sembra mica Cicorita Sì, le foglie lì sì Ma non è vero Sì Pollice in su per chi pensa che sia Cicorita Vabbè, ma metteranno tutti i pollice in su perché è Cicorita Chi lo metterà per altri motivi Perché sono bello e ho una bella voce Anch'io ho una bella voce Secondo loro, non secondo me Ci sono ragazze tra le cose qua Sì Ciao Io sono Nick, per quelle nuove Ma c'è anche la ragazza, quindi non dovrebbe Sì, ma Prostituirsi in questo modo Ehi, vado un giro Ma seriamente, se volete scrivermi un messaggio privato fate pure Ma come fanno a capire se sei il loro tipo dalla voce Ma c'è la foto, signo profilo In mente, in piccolo Ah, ce l'hai ancora la foto Quello che suona il saxofano Non è vero Sì, è vero Non è una foto in bianco e nero Sì, è vero E stai suonando il saxofano Ma non il saxofano Perché sì, sono un musicista io Hai detto prima che una volta lo suonavi L'ho detto prima? Sì Mamma mia, sono messo male Lavorare in casa anziani ragazzi mi ha rovinato No, scherzo Ora in realtà Nick ha 80 anni Ma li porta bene Mi dimostra 20 Mi è passata un po' un'altra F*** Ah, ci senti Cos'è quel coso? Intanto non puoi prenderla Non posso prendere niente? No, tu hai la lancia forever Che tipo di personale Ma fai meno Non puoi far meno? E cambiare? Ah sì che puoi Vai, torna Kirby Tadà Dai fai anche tu la frusta Prendila anche tu Ah, ma il gioco è duro eh No Vieni qua Bello Bembo Dai qua, siamo due indiana Jones Cacchio Aspetta, pregiamo tutti due così Posso prenderti? No, non posso afferrarti Stai lì Gli hanno già finito il livello Guarda un po' Vediamo chi arriva più in alto adesso Mi sa te Mi sa te Guarda che Devi recuperare tanto Dei livelli di prima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti